E ragazzi, come va? Io sono FerriNiki E io sono Steph, e questo giro chiama Roblox E oggi ragazzi andremo a giocare un Tycoon molto 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 particolare L'abbiamo dovuto cercare bene, l'abbiamo trovato nei meandri dei games di Roblox Nelle profondità di Roblox e dei Tycoon Esatto, perché non è molto giocato, ma noi l'abbiamo trovato davvero davvero fantastico E si tratta dello Skyblock Tycoon Ovviamente, come da nome, è la mappa di Minecraft, giustamente Esattamente, simula la serie più famosa di Minecraft o giù di lì E quindi avremo il nostro isolotto che flutta in aria Come potete vedere, questi sono i vari isolotti E sarà un Tycoon davvero particolare Tra poco andremo a vederlo, ma prima di tutto dobbiamo comprarci gli strumenti Assolutamente, altrimenti come facciamo? A tagliare gli alberi, a prendere la pietra Perché sicuramente ci sarà anche quella come su Minecraft E andiamo subito Salve signor Otto, che bella barba che ha lei però Oh, ma lei è proprio un venditore bellissimo Guardi, ascolti, cosa ha da venderci? Cosa ci deve vendere? Non parla Non parla No, 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 ha detto che possiamo fare da soli Allora, qui abbiamo una bellissima ascia che dovrebbe essere per la legna E il piccone, che non possiamo comprare Addio, Steph! Addio! Mi vedo nel mio isolotto Mi vedo lì in fondo, lontanissimo Guarda quanto siamo lontani Che tristezza Però ci vediamo Ti vedo nel tuo Ciao, salta Aspetta, ciao! Ok, abbiamo un alberello Vedo che c'è un Game Pass che lasciamo perdere E due da acquistare Gratis? Ok, no, uno di legna Quindi iniziamo subito a buttare giù il nostro alberello Parliamo del tempo Guarda che belle nuvole Guarda che bel cielo Da me c'è il sole, da te? Anche da me Che coincidenza Non vedo l'uvole grigio all'orizzonte Quindi mi sembra che si prospetti una bella giornata Ed è apparso l'albero Io vedo un po' di fulmini dalle tue parti No, no, si sbaglia Non stare sotto gli alberi, mi raccomando Ok Che adesso Ok Abbiamo tre alberelli che crescono Noi dobbiamo continuare a prendere legna Per poi comprare un ponte Un ponte Sì Che costa 5 di legna Ok, quindi Dobbiamo farmare legna Assolutamente Almeno per un pochettino Per fare il ponte Ci vuole la legna Per fare la legna Ci vogliono gli alberelli Per fare gli alberelli Ci vuole una cetta Che abbiamo comprato Dal ventitore Da un tizio simpatico Con la bella barba Sì, facciamoli i complimenti Altrimenti non ci vende più nulla E sono gelosa Perché è una barba più bella della mia Io vorrei avere quel tipo di barba Ma non mi cresce E quindi Sei sfortunato, mi dispiace Mi piace di più a Capitan Jeff Sì, Capitan Jeff ha una peluria E una barba bellissima Poi verde Tu non la vorresti verde Se tu fai il pirata Ti cresce in automatico più barba Eh certo Sono come fai a essere un pirata Senza barba Saresti uno svergognato Bravissima In ogni caso Con la mia canzoncina Crescono più in fretti gli alberi E quindi faccio un sacco di legna E infatti Tagliando quest'alberello Arriva a 7 Sì, col vento è arrivata anche a me Capito? Dato che siamo vicini di isolotto Prendiamo il ponte assieme Voglio farlo in contemporanea Visto che siamo separati 1 2 Vai ci sopra 3 2 1 Vai Pam Uuuuh Ma è comparsa un altro isolotto Ma non è solo un ponte È un'altra bellissima Isola Aspetta Stone Path Che sarebbe Un percorsino Poi Stone Generator Che sarebbe un generatore di pietra E poi un'estensione della terra Che quindi immagino Che diventi ancora più grande Questo isolotto Esatto Interessante Allora Ragioniamo in modo saggio Stiamo in una skyblock Quindi secondo me La cosa più importante Che dovremmo prendere Per prima È lo Stone Generator Che costa 6 di legna Ok Ok Ricordati però Che per prendere la pietra Ci serve anche il piccone Che costava 3 di legna Quindi dobbiamo arrivare Ad avere un bel po' di legna Ok Continuiamo a farmare Per fare Stone Generator Ci vuole la legna Siamo a 9 Finalmente possiamo rivederci Mi butto giù E ci rivediamo al negozio Finalmente ci rincontriamo Finalmente Almeno quando dobbiamo comprare Quanto tempo Sì esatto Eccoci È arrivato anche un consolino Ciao consolino Facciamo una festa Ci ha ignorato È venuto anche lui A comprare il piccone comunque Giustamente Allora quindi piccone 3 di legna Compra Ci ricordavamo bene Grazie signor barbuto Ok È stato gentilissimo Come sempre Ed è sempre molto carino Guardi siamo molto felici Del piccone Che abbiamo acquistato Ottima qualità Assolutamente sì Torniamo? Sì torniamo Questa è la mia Sì non mi ricordo O più Torniamo nel suo isolotto Compriamo Sto generetto Perché sono sicuro Cioè sono sicuro Sono curioso Non so perché Sto sicuro Sono curioso Se l'hanno fatto davvero Con lava e acqua Come dovrebbe essere realmente Quindi Allora Sei pronto Ci sei sopra Così togliamo Tutte le curiosità Ragione Allora Allora vai anche tu Nell'acqua Ok io nel mentre che sono Nella lava Mi prendo Anche io Ok io Prendo pietra Poi mi giro Vado a prendere 3 di legna A quel punto Arrivo a 12 di legna Appena finisco Pena legna Dovrebbe essere ricompassata La pietra Quindi Arrivo a 6 E finalmente posso comprare Il secondo stone generator In questo modo Inizio a fare 2 di pietra Alla volta Assolutamente Adesso ne stavamo facendo Soldanto 1 Quindi Si tratta tutto di fare Un avanti e indietro Velocissimi E prendere più legna possibile Legna 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 Pietra Legna 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 Pietra Legna Anche questa potrebbe essere Una canzone Hai presente quando ti fanno 1 2 3 4 Legna 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 Pietra Come nel ballo Che ti danno il ritmo Ti stai dando il ritmo Per il farm Mi sembra una cosa giustissima Con i click Legna 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 Pietra Legna Legna Basta Ci stavo provando Fammi comprare il nuovo stone generator E Eccolo qua Adesso ne ho 2 E quindi il doppio della pietra Da produrre Perché No Hanno capito che la mia canzoncina del farm Era troppo potente E mi hanno bloccato Anche secondo me Anche secondo me ci hanno bloccato Non ci credo Perché C'eravamo già qua a picconare A prendere legna da 2 ore Eravamo messi benissimo Non ci credo Allora Siamo rimasti di nuovo dentro la mappa Una mezz'oretta Dato che c'è Totalmente crashato E ci siamo presi Fatti per ne un po' la mano Abbiamo comprato un po' troppe cose Bisogna essere sinceri Siamo andati abbastanza avanti Anche per non annoiare E non far vedere solo farm Ma vi facciamo subito vedere Le cose fantastiche Che ci sono In questa mappa Sto facendo vedere In proposito il cielo Perché non vi voglio spoilerare nulla Siete pronti? È fatto proprio bene Vai Inizia Inizia Andiamo Allora Qui sono diventati 3 Eravamo a 2 Ovviamente abbiamo comprato il terzo E abbiamo comprato questa bellissima stradina Vedete? Sono 3 di pietra Fantastici Qui mi sa che era comprare Poi c'è un altro percorsino Che in effetti non ho comprato Che ti collega a questo ponte Perché io l'ho preso È fantastico Ponticello di nuovo È nuova isola Qua abbiamo una specie di casettina Dove si dorme Vedete? E giustamente se qui piove Almeno hai riparo Mi sembra giusto Esatto E la cosa più bella È che qua praticamente Questo isolotto è fatto così Che va a scendere E questo qua ragazzi è ferro Assolutamente sì Quindi praticamente Fai vedere come si prende Esatto Noi facciamo così E prendiamo il ferro Quando L'abbiamo preso tutto Clichiamo questo bottone E ricompare tutto Quindi è ancora diverso Sia dagli alberi Che dal stone generator Proprio continua a variare Questa mappa E ti sorprende sempre Ed è una cosa fantastica L'altra cosa Che c'è da dire È che adesso Abbiamo degli strumenti potenziati Perché siamo tornati dal barvutto Ci siamo comprati Il piccone E la cetta potenziata E guardate Adesso invece Che metterci 5 colpi Ce ne mettiamo 3 Giustamente Con quelli potenziati È molto molto più comodo Altrimenti il farm Sarebbe diventato davvero lento Esatto Comunque Hai fatto vedere l'isola C'è una cosa molto più importante Da fare adesso No Guarda quello No Ah si ha i palloncini Che l'acqua che va a scendere Ma è fantastica Sta mappa È bellissimo Ma scherzi È fantastica No la casetta Con i palloncini No non vedo l'ora di arrivarci È bellissima Cioè voglio i palloncini Anch'io È troppo bella Comunque Sì So che stiamo impazzendo Per le altre isole Ma c'è una cosa importantissima Da provare in questo momento Ok Signor maielino Sta fremendo Dall'impazienza Quindi è arrivato il momento Dobbiamo andare a provare l'alena Sei sicura? Sì Mettiamoci uno di fianco all'altro Stiamo fermi e picchiamo Aia aia Ma mi stai facendo danno tu Ah scusami Aiuto Scappa Allora Battle mod Fidati di me E scappa Allora Ti sciottano Appena ti toccano Tu sei morto Ti ho detto di scappare Io ci voglio continuare a provare Perché vedi che uno Comunque l'abbiamo fatto scendere Signor maielino Picchelo Picchelo L'ho ucciso Signor maielino È arrabbiatissimo L'ho ucciso Ce la faccio Ce la faccio Stiamo vincendo Stiamo vincendo Sì Però sono morto all'ultimo Perché mi è ucciso tu E non altri Niente Ok Ah è per allenarti all'infinito Sì Allora È proprio per diventare Un vero gladiatore Capito Allora piano piano Io ti consiglio di scappare Ma io voglio diventare Un vero gladiatore Infatti sei morta Come me l'hai detto Vabbè Un gladiatore che muore con onore Hai fatto anche rima Ragazzi Guardate Questo tizio è venuto E mi ha ucciso È su un aeroplano E può volare Da un'isola all'altra Quindi potremo arrivare A giocare insieme Alla fine Non ci credo Però sta avendo qualche problemino Scusi È tutto a posto lì È sicuro di saper guidare Quell'aereo Secondo me non ha la patente Anche secondo me Le conviene scendere Perché potrebbe essere pericoloso Non vorrei vedere La schiantata per terra Vabbè In realtà mi ha ucciso Quindi si schianti pure Esatto Lasciamola ai suoi affari Comunque è fantastico Io mi sono spaventato E beh certo Tu ti aspettavi Che arrivasse qualcuno dal cielo Ma chi se l'aspettava No Allora Ha sia la nuvola spirit Quella di Dragon Ball Ok Sia un aeroplano Quindi ho un sacco di modi Proprio per venire Nelle nostre isole Devi stare attenta Perché Eccolo di nuovo Aiuto Ciao con te Ciao con te Sarai uno Con le armature Che vola Però sinceramente No 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 È infattibile È troppo potente Prima di finire Per questo episodio Voglio fare un altro ponte Per vedere l'isola successiva E sai cosa devo fare? Cosa? Dieci di ferro Vai vai Mina 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 Ferro 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 Canta insieme a me Ferro 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 Ho paura di cadere Direi Fai attenzione Fai attenzione Fai attenzione È pericolosissimo Ma secondo me Sai come ti conviene Rimanere lì? Dezooma Ok Ok E li prendi da lontano Tanto non cadi Eh ma c'è la mia testa di mezzo E dici che la tua testa Ti copre tutta la visuale È una testa un po' gigante Ok ok Io non ho di questi problemi Grazie Beata Beata Però sono arrivata a 9 di 10 Sì sì Ce n'è tanto Ferro Ce n'è tanto Me ne manca solo uno Allora Dezooma Li vedi? Vedi? Ah ok Se no me li vedi È quello che ti sto dicendo Tanto li puoi prendere lo stesso Ce li ho Ce li ho Vai Signori Riprende e compra Il ponte E c'è solo un ponte E questa volta l'isola La devi comprare Inizia a diventare più difficile Sì speravo che ci fosse già un pezzo di isoletta Io ti rispondo così E invece no La devi comprare Vabbè pazienza In ogni caso ragazzi Ci fermiamo così Come potete vedere Questo Tycoon non è minimamente finito Infatti possiamo salvare Perché se vedete adesso C'è il tastino per il save Quindi I masali views Likes Commenti Eccetera 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 Decideremo se fare una seconda parte Dove finiremo questo Tycoon Che mi sembra davvero carinissimo E pieno di cose fighissime Considerando quel tizio Perché aveva Cioè guardate Guarda quante isole ha Palloncini Casa Spettacolare Bellissimo No aspetta Cosa? La casa sta prendendo il volo Cosa vuol dire? L'ho vista muoversi Bellissimo Insomma fateci sapere Se volete vedere un secondo episodio Perché è davvero fantastico Questo Tycoon Bene che si riuscite così Sui giusti Ascettici un like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao Ciao